Un posto al sole. Giovedì, 24 giugno, 2021. Silvia, non si trova più con Michele, e non riesce a fare a meno di pensare a Giancarlo, che lo attrae sempre di più. La donna, poi, precipita di nuovo in crisi, a causa di un nuovo speciale invito, da parte di Todisco, che cela al marito. Nel frattempo, Michele, aiuta Vittorio, a tirarsi fuori dai guai sul lavoro, dopo l'ammonimento di Chiara Petrone. Guido, scosso ed incredulo, si prepara a fare una scoperta, che mai si sarebbe aspettato di fare. Chi, o che cosa, riguarderà? In seguito all'improvviso malore di Filippo, a casa Sartori, cresce a dismisura la preoccupazione, per le condizioni di salute dell'uomo. Intanto, la guerra tra Renato e Raffaele, non accenna a spegnersi. I due, ad un tratto, si ritrovano anche a fare i conti, con una bruttissima sorpresa. L'interesse della Graziani, per il bel Giancarlo, sta per diventare di dominio pubblico. Grazie per la visione!